La leadership è utile per il vostro lavoro, per quelli che sono leader, che sono manager, che devono gestire le persone, ma lo è anche per tutto, anche per i nostri figli che sono sempre giovani. Ci sono tanti tipi di leadership. Io mi piace iniziare per dire che un leader deve innanzitutto essere se stesso e questo vale anche per le donne, essere se stessi. Quello che non funziona di sicuro, soprattutto con i giovani in generale, è chi vuole essere quello che non è, perché gli altri se ne accorgono subito. E cominciano a grattare e si vedono che sotto non c'è sostanza, o ci ridono dietro o ci massacrano, o tutte e due le cose. Perché un leader che si propone come leader e poi risulta che dietro non c'è perché lui è apparenza, non funziona. Non è detto che il leader deve essere un duro sempre, c'è chi lo è, io sono abbastanza duro per esempio con le squadre, non sono un leader morbido. Ma conosco grandissimi allenatori che non sono così, però sono se stessi, hanno un altro modo di approcciarsi ai giocatori, eccetera, che le dà gli stessi risultati. Seconda caratteristica del leader deve essere autorrevole, detto in parole povere deve sapere molto di quello che parla. Che significa sapere molto, sapere i particolari, non parlare con schemi preconfezionati, perché anche gli altri se ne accorgono di questo. Io potrei, se a me mi danno un'oretta, vado in camera un'oretta con materiale, posso parlare di qualunque cosa. Perché so parlare, per cui l'economia della vostra azienda mi ha dato un'ora e io parlo. Ma gli altri se ne accorgono subito che non sono autorrevole, che non so. Ho la informazione, ma non so di quello. Perché io parlerei con un schemino, mi faccio un schema, parlo, lo sviluppo, sapere è un'altra cosa. Quando uno sa, non ha paura che uno le faccia una domanda, non ha problemi a discutere sulla cosa. Soprattutto non cerca di ridurre tutte le situazioni all'eschema preconfezionato. Se apre alle diverse situazioni è perché il tema lo conosce bene. Allora, se non lo conosciamo bene, dobbiamo metterci a studiare. E ascoltare agli altri che magari hanno più esperienza, che magari sono sotto di noi nella gerarchia, però che hanno esperienza. Proprio l'altro giorno, in un'azienda, un manager mi ha detto, ma quando uno cambia, che a volte i manager le passano di una funzionale all'altra, no? E come si fa a avere questa? Eh, bisogna studiare. Se ero manager dei vestiti e poi mi manda una manager di un'azienda di pasta, sì, la gestione del lavoro è uguale, però la pasta non sono i vestiti. E devo cominciare a conoscere i particolari. Perché quando un giocatore le dice, fa così, lui fa e funziona, il giocatore dice, ah però, questo qua lo ascolto. Se io le parlo, devi giocare bene, non sbagliare, tutte queste cose generali, e quando lui sbaglia non entro nei particolari perché non li so. Perché non li so non entro nei particolari. Perché se sbaglia in quelle situazioni? Quali possono essere i motivi? Non li chiedo a lui, ma allora se sente che non sono autorrevole, che non conosco bene il tema. La terza caratteristica del leader, per me importantissima, è essere giusto. Essere giusto. L'idea di giustizia. Pensiamo ai professori che abbiamo avuto a scuola. Ci sono stati quei professori duri, duri, esigenti. Domenica non potevamo andare allo stadio perché dovevamo studiare perché lunedì quello lì non perdonava, o quella lì non perdonava. E parlavamo, no, tra ragazzi, quella lì, quella di matematica, protestavamo, ma non parlavamo con odio. Perché era molto dura, o molto esigente, ma era con tutti molto dura e molto esigente. Perché noi parlavamo dietro, certo, però non con odio. C'erano dei professori che erano ingiusti. A uno le mettevano sette perché lei era simpatico. Io, perché l'avevo discusso una cosa, mi metteva quattro. A una ragazza le metteva un voto perché era più tranquillo. Un'altra che magari non le piaceva il modo di essere, poi a volte ci sono anche, soprattutto tra professoresse e ragazze, non le piaceva perché la teneva. Di quei professori si parlava con odio perché erano ingiusti. Quindi noi, agli occhi delle squadre, dobbiamo essere e sembrare giusti. Essere e sembrare. Perché dico sembrare? Perché per esempio mi è capitato che un giocatore mi chiedesse un anno, non so, un permesso. Io gli lo do perché in quel momento non era un problema per le squadra, così. Due anni dopo, un altro giocatore mi chiede un permesso simile e in quel momento per me è un problema. E io gli dico semplicemente no. No, non te lo do. Senza ricordare che due anni prima un altro gli ho detto di sì. Quel giocatore si ricorda come? Si ricorda come? Che un altro gli ho detto di sì. Allora, se le circostanze sono cambiate e io le devo dire di no, io mi devo ricordarle e dirle, guarda, purtroppo ti devo dire di no perché siamo in questa condizione. Lo so che due anni prima un altro gli ho detto di sì. Scusami, per oggi abbiamo questa situazione. Completamente diverso. Ora, se io non mi ricordo è perché vedo tutto del mio lato del bancone, no? È come al bar, c'è la parte dei clienti, la parte del... Io molte volte dico che succede una discussione come tra quello che è sopra un grattacielo e quello che è sotto. Quello di sopra dice le macchine sono piccole, quello di sotto dice no, sono grandi. Discutono sempre finché uno non sale e l'altro scende, no? E risulta che tutti e due hanno ragione, dipende da dove si veda. Quindi noi dobbiamo pensare a tutte queste cose, ricordare queste cose perché a noi ci succedono e quando noi siamo leader, siamo capi di un'organizzazione, magari non le diamo più importanza e invece questo ha una grandissima importanza nell'altro che riconosca il nostro modo di gestire. Quarta caratteristica che secondo me è importantissima di un leader è combinare la grande esigenza in certe cose dove lì chi è sotto di noi deve noi, noi, siamo un elemento di motivazione perché siamo lì che controlliamo, che chiediamo, che pretendiamo, eccetera, combinare questo con l'aiutare nei problemi. Quinto, il famoso senso di appartenenza che le aziende le preoccupa tanto oggigiorno, anche i club sportivi le preoccupa tanto, il senso di appartenenza delle persone nasce per questioni affettive, non tecniche, non di quantità di tempo che sono in un posto, ma affettive. Quindi noi dobbiamo anche creare con le persone che gestiamo delle situazioni di affettività che sono compatibili con le situazioni di grande esigenza. Quanto di una cosa o quanto dell'altra, quanto basta. Se sono troppo affettivo e non c'è sufficiente esigenza, se creano quelle situazioni di troppa confidenza, che non si rende al massimo. Però se non c'è anche affettività su certe cose, non c'è senso di appartenenza, non ci danno al massimo. E per affettività intendo anche piccole cose, piccole cose. Io mi ricordo quando ero alla Lazio, che ho fatto, il direttore generale alla Lazio, ho fatto un'esperienza lì, c'erano due fratelli che erano i magazzinieri, che lavoravano, perché una squadra di calcio, soprattutto quando piove, c'è un lavoro tremendo per i magazzinieri, con le scarpe, le maglie. Intanto ho fatto due cose. Uno, gli spogliatoi erano un schifo, cioè tutto buttato per terra, le tapping buttato così, le slip, e venivano i magazzinieri, il personale, a raccogliere tutto, eccetera. Allora io ho detto, ho riunito alle scuole e ho detto, qua metteremo dei bidoni, non voglio niente per terra, perché qua c'è la gente che guadagna mille euro al mese, che deve fare questo lavoro, cerchiamo di creare le buone condizioni. Hanno messo delle, perché poi ci sono le cose piccole, delle cose piccole così, che i giocatori buttavano così, non prendevano, non lasciavano. Allora ho chiamato a Timangelo e ho detto, no, così deve essere. Quelli, avete presente quelle di plastica? Così. Perché se noi mettiamo quelli così e poi c'è la minima cosa fuori, io divento una bestia, perché lì non c'è scusa, e anzi, quattro mettiamo. A quel punto non c'è scusa. Questa gente, quando cominciò ad arrivare gli spogliatori, vedeva tutto così, non ci poteva credere. e a questi due, una volta ho detto solo una frase, ho detto, ragazzi, se le squadre lavorano come voi, noi vinciamo lo scudetto. Quella frase, per quei due lavoratori, che in una squadra di calcio immaginati, i magazziniere, l'ultima ruota del carro, no? Sono tutti famosi. Quei ragazzi erano, davano tutto, tutto. Però voi pensate, io ho avuto una discussione, una discussione, perché quando abbiamo vinto la Coppa UEFA, avevo fatto una coppetta così, solo per i giocatori, due staff e me. Ho detto, facciamo per tutti, per tutti. Ho dovuto discorre, anzi, ho dovuto imporre la mia condizione di direttore generale. A un certo punto ho detto, se fa così, perché lo dico io. Perché lì non si volevano spendere, non so, quanto, non so, 500 euro. Per un giocatore che ha vinto tanto, quella coppetta lì la metti intanto a mille trofei che hai. Un lavoratore, uno degli altri, quella coppetta lì la porta al bar del suo quartiere e dice, io ho vinto la Coppa UEFA. Ossia, io sono parte. Ci sono tante società che fanno questo. Io so sicuro le due di Milano lo fanno, ma sicuramente ci sono oggi di più. Lo farà anche la Lazio, lo farà, non so, però sicuro so che Milan e Inter quando vincono qualcosa tutti, gli impiegati del club, tutti, tutti hanno una mensilità in più. Questo è parte di creare, no? Questo è spirito di squadra, ma di guardare le cose dalla parte dell'altro, anche non dalla parte mia. Questo crea, queste cose di affettività, creano questo senso di identità. Chiederle a uno che viene a lavorare, che io ho saputo, che ha il figlio che sta male, la moglie, come è stata tua moglie, magari non le posso dare il giorno libero, magari non posso lasciarlo andare via un'ora prima, perché non posso, ma se posso, se posso, lo faccio andare via un'ora prima, perché quella persona che io, senza che me lo chieda, le dico, oggi vai, dai, ti aiuto io, faccio aiutarti un altro, vai a casa che hai il tuo figlio che sta male, quella persona si farà in quattro per l'azienda, per me, per le squadre la prossima volta. Quando io gli chieda di rimanere mezz'ora in più perché sono in difficoltà, lo farà volontieri. Invece che succede anche nelle squadre, quando molte volte i giocatori di calcio gli si critica, si dice, eh ma poi vanno via per soldi, ma che cosa è stato prima? Perché prima c'è stata affettività? Forse no, forse per quello il giocatore anche se comporta così, perché mentre gioca bene, va bene, appena gioca male è un numero, non è più una persona. Non dico che bisogna rinnovare il contratto per riconoscenza, questo no, perché le squadre bisogna farlo il più forte possibile. Però a volte preoccuparsi, occuparsi dell'altro, anche se non gli do quello che lui pretende, crea questo legame fortissimo tra leader e gruppo, tra leader e giocatori che permette anche di funzionare bene nei momenti di grande difficoltà. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.